Nel 2018 sono stati 3.288 sardi, per lo più giovani, che hanno lasciato l'isola. Il flusso si è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Si tratta del record dell'ultimo ventennio. Alla fine dello scorso anno la popolazione residente in Sardegna era di 1.639.000 individui, 9.000 abitanti in meno rispetto all'anno precedente. Con un calo di abitanti del 5,4%, la Sardegna si colloca al di sotto della media italiana, a meno 1,5, e supera le regioni del mezzogiorno, che hanno una media del meno 4,2%, e quanto emerge da uno studio realizzato dalla CNA Sardegna, che ha analizzato i dati dell'Istat sui flussi delle popolazioni residenti. Nel 2018, si legge nella nota, si è notavolmente ridotto il numero degli stranieri, con un decremento di 2.466 unità, meno 32%. Nel 2018 il saldo tra flussi in uscita e flussi in entrata è stato di 822 residenti in meno. L'accelerazione dei fenomeni di declino demografico trae origine dalla perdurante difficile situazione economica e dalla mancanza di opportunità di inserimento lavorativo, specialmente per i più giovani, sottolineano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della CNA Sardegna. Se l'isola non riuscirà a invertire la rota, saranno sempre di più i giovani sardi che cercheranno fuori dall'isola l'opportunità lavorativa e di vita, determinando un impoverimento sempre di più marcato del tessuto socio-economico con conseguenze devastanti per gli equilibri demografici ed economici della nostra regione.